Quando che nonna mia pigliò marito, non fece mica come tante e tante che dopo un po' si trove non l'amante. Lei, in cinquant'anni, non l'ha mai tradito. Dice che un giorno un vecchio impregiuttito che gli voleva farlo spasimante gli disse «Va regalo sto brillante se venite a pigliarvelo in un sito». Un'altra al posto suo, come succede, gli avrebbe detto subito «S'ho pronta!» Ma nonna, che era onesta, non c'è niente. Anzi, gli disse «Stattene lontano!» Tanto che adesso, quando la riconta, ancora ci si muzzica le mano.